Vedete la lasagna fatta da Gianluigi, dalla mamma di Gianluigi, le fave, che ancora maggio non è, però ha detto che le fave vengono dalla basilicata, il salame, il prosciutto, qua abbiamo il ciavuscolo, tipico marchigiano, vediamo in quest'altro tavolo di qua cos'è che abbiamo. Pezzone che parlano, Anna Maria, Matteo, tutto pronto, tutto gamba, Laura che spugnetta sul telefono, Chiara, Valentina, Laura, una serata 5 stelle e solo donne. Solo donne, allora io non ci vengo. Sono ammessi, io esco dalla torta. I giornalisti sono ammessi. Bene, vediamo qua, Gianluigi, le lasagne come va? È finite, guarda. Graticolata qua, che salsiccia, mamma mia, guarda qua che salsiccia che c'è, guarda qua che salsiccia che c'è. Manuele, ma cos'è queste salsicce qua? Le vedo in pericolo di vita, lo sai. Sì, è in bilico. Sono in pericolo di vita queste salsicci. Ma salsicciata, è abbastanza riuscito Manuele. C'è stato lavorato su, perché è un mesetto che si sta organizzando. La difficoltà è stata riuscire a realizzare il tempo, una bella giornata. Che c'è in contatto con una bella giornata. Sì, intanto noi siamo riusciti a contattare chi di dovere. L'altissimo, vedrete le ultime nomità, Andrea Prosperi con Sant'Antonio. Seguite, seguite il canale. E qua tutti quanti, Luigi. Bella giornata, Luigi, oggi. Bellissima, siamo stati fortunati. Le api come stanno? Le api stanno bene. Il Cosmo è con noi perché ci assiste con questa bellissima giornata. Qui c'è queste montagne qua che sono serbatoi d'acqua che dicevi l'altra volta. Tu guarda questa montagna e immagina quant'acqua c'è qua dentro. Sì, e ogni montagna porta l'acqua nella valle tipo Tronto, Tronto, Chienti, Asso, Ambro. Ogni montagna ce n'ha uno o due. Questa ne fa due, questa fa il Chienti e l'Ambro. Il Chienti a destra e l'Ambro a sinistra. Venendo sotto. Questa fa due fiumi. Esatto, l'abbiamo vicino perché... Ma quello è un po' sinistra.